La speranza c'è sempre, non abbiamo dubbio in questo perché con la forza che ci sta arrivando da tutti i cittadini di Avellino forse è quella spinta, è quel coraggio che ti danno a mandarti avanti, a darti una forza che praticamente non sapevi di avere. Lo stiamo facendo per le famiglie, lo stiamo facendo per i bambini che purtroppo stanno subendo tutta questa situazione. Abbiamo avuto bambini ieri pomeriggio che hanno pianto insieme a noi vedendo le loro mamme piangere. Io non so, però sanno una cosa e la sanno bene che non molliamo, rimarremo qui, nessuno ci farà togliere quella tenda fino a che non avremo una risposta da Copp. Dopo 28 anni tornare a casa ed essere disoccupato non lo auguro a nessuno. Senza che gli è stata data una spiegazione? No, senza una spiegazione, dopo aver fatto i sacrifici per anni, cassa integrazioni, scatti di anzianità tolte, solidarietà, per vincere la scommessa che Copp restasse in questa città. Copp vuole abbandonare questa città. Scossi provati ma non mollate, come si legge da questo messaggio scritto sulla tua maglietta? Assolutamente sì, noi siamo delle famiglie, non possiamo mollare per i nostri figli, dobbiamo andare avanti. La Copp ci ha insegnato tanti valori in questi anni, in questi vent'anni in cui abbiamo lavorato. Loro non li hanno rispettati, noi cerchiamo di educare i nostri figli con i valori che ci sono stati insegnati. È stata una notizia che ci ha raggelato il sangue nelle vene, nessuno di noi ci aspettava un atteggiamento così freddo, così pesante. Ancora non ci siamo ripresi da questo cazzotto che abbiamo ricevuto dalla Copp in pieno volto. Signori, qua ci sono famiglie, ci sono monoredditi che ormai non percepiscono lo stipendio dal 10 di maggio. La previsione è che dobbiamo continuare a lottare, ma soprattutto consapevoli del fatto che la Copp ieri ha dichiarato che 139 famiglie saranno in mezzo alla strada. Ci stiamo aspettando le lettere da un momento all'altro. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, ma soprattutto è il momento che le istituzioni veramente facciano in maniera concreta quello che ci hanno promesso e quello che ci stanno dicendo ormai da 20 giorni.